70 più o meno. Quello che succede è che quando vedi poi metti gli impianti nell'osso, queste viti monoblocco sono tutte divergenti. Il problema qui ce l'ha poi il laboratorio, come faccio a fare entrare i denti se sono tutti così? Ragionate, siete voi i dentisti, come fareste? Bisogna fare i bucchi uno diverso dall'altro. Vedi che qua si è portato avanti con il lavoro, li ha limati. Ha cercato di limarli e fare dei tronchi di cono sui quali puoi inserire la protesi. Le domande tutte dopo, così se con discorso non fa troppi tagli nel video, se no poi impazzisce Eugène. Quando va a mettere gli impianti nell'osso, li solidarizza con una barra che viene elettrosaldata. È proprio alta carpenteria, non è niente di sofisticato, mi faccio vedere un'altra barra elettrosaldata. È una barra in titanio, si poggia su quegli impianti monoblocco limati, c'è una pinza che si pinza la barra con quei pilastretti e va poi con una corrente affondere le due parti. E quello che ti viene è che gli impianti vengono tutti tra loro uniti. Andiamo più giù, vediamo se ci sono proprio foto di questa barra elettrosaldata. Eccola qua. Vedi com'è? Non è che non va bene, c'è chi lo fa. Sono tantissimi studi nel mondo che curano così. C'è il rischio che fa scintille anche, quando la saldi fa davvero scintille, non scherzo. Però il problema qual è? Che quando tu vai a incollare i denti sopra, il primo problema che nasce è che, me lo sposto un po' più in qua, se questa è l'arcata dei denti che io devo mettere, e i denti saranno tutti qua, non è detto che gli impianti cadranno tutti all'interno di questo ferro di cavallo. Ok, io potrei avere magari degli impianti, alcuni che mi escono qua, altri qui e uno qua, uno qui e uno qua. Per questo allora cosa avevano inventato? Delle protesi che erano avvitate, di modo che ci fosse una struttura che colmava il gap, tra dove usciva l'impianto e dove invece dovevano essere i denti. E quella, se voi togliete i denti, praticamente dal modellino che avete, toglieteli tutti, lasciate solo quella barra gialla. Quella è la soluzione che è stata trovata poi 20 anni fa. Forte, forte, si staccano. Non si staccano. Quando sono belli, sono a frizione, sono. Quella barra è stata inventata poi da Malò, il famoso dentista, quello che aveva inventato l'On4 e l'On6, ovvero tutti i denti su quattro impianti o su sei impianti. Allora aveva detto, come faccio io a superare il problema di questi impianti che sono tutti in zone diverse della gengiva e devo fare un ferro di cavallo però che non sia storto, che non sia condizionato da dove... Devo separare i problemi. Ciò che è dente, è dente, lo vado a posizionare correttamente dove deve essere nel sorriso e anche in base alla masticazione lo metto in asse. Gli impianti non devo metterli pensando a dove andranno i denti. Gli impianti li metto dove c'è l'osso, se no li perdo gli impianti. Però per unire i denti e gli impianti devo inventarmi uno snodo. Ok, uno snodo ed è stato poi quello che si è chiamato il Multi Unit Abatment. Multi Unit Abatment è stato, eccolo qua, praticamente questo snodo con diversi gradi che si avvita dentro agli impianti dentali. Vedi bene qua come l'impianto può essere storto, però poi sopra ho uno snodo che mi colma il gap di inclinazione. Ok, ci sono di diverse inclinazioni. La protesi quindi, a un certo punto, 20 anni fa è stata inventata questa tecnica da Malò che è diventato famoso, ed è diventato famoso fondamentalmente per aver suddiviso quello che era il problema dei denti dal problema degli impianti. Se io vado invece qua a mettere una protesi incollata sopra, dovrò per forza essere legato a dove ci sono gli impianti. Quindi non è che una cosa va male, non si usa, una è vietata e l'altra è permessa. È che alcune tecniche ti risolvono certi problemi che altre tecniche, le prime che erano uscite a livello storico, invece ti creavano. È una tecnica più questa, vedete, analogica, perché oggi noi queste barre le facciamo tutte col digitale. Quella gialla noi la possiamo fare in titanio e la possiamo, al momento dell'intervento, il giorno dopo, due giorni dopo, avvitare sopra gli impianti. È semplificata come barra, infatti quando voi mettete i provvisori avvitati, tanto non li mettiamo su tutti gli impianti. Se dietro abbiamo ricostruito l'osso, quelli li teniamo sommersi, quegli impianti, e ci attacchiamo solo su quelli davanti. Li uniamo con una barra fatta col computer e stampata dalla stampante per metalli. E quella si avvita senza colle sopra gli impianti. E sopra quelli poi ci sono i denti in PMMA, resina, che dopo sei mesi, un anno, si buttano. Quella ci aiuta tantissimo, perché poi dopo ci sposteremo in laboratorio. Vi farò vedere casi che non sono ideali come questi, perché in questo i fori escono tutti al centro della struttura, ma ci sono casi in cui i fori sono da altre parti. Allora in quel caso hai bisogno di una struttura che va poi a chiappare i denti.